mi ero ripromesso che non avrei fatto più video su youtube ma non posso esimermi dal farlo allora purtroppo devo assolutamente dire questa cosa perché non si può non dirla il ddl la legge contro l'omotransfobia che pare rischi di passare molto presto è una legge estremamente pericolosa e non c'entra niente il fatto che si dica che praticamente possa essere serve per tutelare allora serve per tutelare insomma i persone che subiscono violenza quindi transessuali o omo come si chiama omosessuali bisessuali per farvi capire non c'entra nulla questo allora la violenza è già condannata nel codice civile ma questa legge vuole essere inserita nell'articolo 604 del codice penale mi sembra la legge contro questo articolo si occupa della violenza e discriminazione contro il razzismo e tutto quanto violenza e discriminazione insomma contro violenza e discriminazione razzismo condanna questo ma è assurdo se noi approveremo questa legge praticamente non solo un family day semplicemente fare anche un family day sarebbe contro sarebbe contro gli omosessuali e i transessuali oppure non lo so dire io sono contro l'utero in affitto potresti rischiare fino a sei anni di galera ok fare anche pubblicità esprime semplicemente un dissenso una critica potresti rischiare di di avere una pena e tu questa pena non sai neanche a quanto ammonta poi dopo questa pena lo deciderà il giudice nel processo a quanto ammonta pensate che persino l'oscad l'osservatorio contro le discriminazioni di genere ha certificato che l'italia è uno tra i paesi gay friendly quindi uno tra i paesi uno tra i dieci paesi a livello europeo che ha meno discriminazione è vero ce ne sono state ce ne sono state una ventina guardate io io non sono d'accordo con tutto quello che dice povia per esempio vi sto facendo degli esempi sono d'accordo solo in parte però in questo senso sta dicendo una cosa giusta cioè è assurdo questa legge è estremamente pericolosa quello che è successo a malika shaghi io sono io sono perfettamente dalla sua parte i genitori dove per me i genitori dovrebbero stare in galera per quello che hanno fatto ma questo diciamo limita in maniera indiscussa la libertà guardate io anche se 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 dovesse passare questa legge io anche a costo di andare in galera e anche a costo di di essere come si chiama di essere considerato prigioniero politico io non smetterò mai di di manifestare le mie idee anche a costo di andare contro la legge perché la libertà quella vera deve tutelare ogni forma di discriminazione non solo contro quella contro contro l'omotransfobia ok e quindi contro contro le discriminazioni contro gli omosessuali poi ci sarebbero altre categorie non lo so i disabili i non vedenti sarebbero categorie di serie b avrebbero meno importanza rispetto agli omosessuali ok cioè è assurdo questa cosa un seminarista che che è gay e volesse diventare seminarista un un seminario insomma un parroco che effettivamente non lo volesse il seminario oppure una coppia di omosessuali che il prete non volesse che si facesse la cresima sarebbe la cresima comunione sarebbe in qualche modo andrebbe contro la legge ma vi rendete conto anche solo dire che magari un bambino sarebbe più giusto che cresca con un papà e una mamma già solo questo sarebbe un atto discriminatorio io mi impegnerò e mi mobiliterò per far sì che questo accada ed è giusto che tutti sappiano è giusto che tutti sappiano perché questa è una legge estremamente pericolosa e io manifesterò sempre le mie idee sempre a costo a qualunque costo le manifesterò a costo anche di andare in galera per manifestare le mie idee ma se una legge sbagliata è giusto che venga detto non nascondiamoci dietro non nascondiamoci dietro i finti moralismi i finti tutti quanti si ergono a paladini dell'umanità senza aver studiato senza capire nulla di quello che c'è dietro questa legge io stesso ero ero contrario diciamo ero ero a favore di questa legge però non mi ero sufficientemente informato adesso mi sono informato questa legge è estremamente pericolosa ma lo dice stesso l'articolo 3 della nostra costituzione lo dicevano i nostri padri costituenti tutti tutti sono uguali tutti senza discriminazione di sesso di razza delle regioni di opinioni politici non è che i gay sono una categoria privilegiata ok vi spiego è giusto condannare ogni forma di discriminazione contro i gay è giusto questa è già sanzionata ma questa legge sarebbe estremamente pericolosa e limiterebbe in maniera drastica e in maniera totalitaria e perfettamente dittatoriale la nostra libertà sancita e la nostra carta costituzionale e io questo non lo permetterò mai a costo di andare anche in parlamento a dirlo io questo non permetterò mai che succeda e se dovesse succedere io manifesterò sempre per le mie idee non solo ma io anche a costo di andare in galera manifesterò sempre quello che sono le mie idee va bene sempre sempre e quindi aprite gli occhi studiate prima di votare questa legge informatevi su quelle che potrebbero essere le conseguenze nefaste in maniera assolutamente ed estremamente pericolosa per il nostro paese perché poi dopo sarà molto difficile tornare indietro se questa legge dovesse essere approvata ma soprattutto cosa ancora peggiore se questa legge dovesse diventare dovesse essere costituzionalizzata fino in costituzione lì allora sarebbe sarebbe la fine per la libertà in questo paese tenetelo tenetelo ben presente questo perché poi dopo sarà troppo tardi ciao e impegnatevi mobilitatevi tutta la nazione si deve mobilitare per questo